Il video di Grillo sarà usato, ma potrebbe essere utile per il processo. Le dico una cosa, dobbiamo cercare di evitare veramente, di strumentalizzare tutto questo. Voi considerate che questo circo fa sì che tante donne che vogliono denunziare ora non denunziano più, quindi mettetevi una mano sulla coscienza. Sul video stanno dicendo una serie di falsità, stop.